Musica Tanta commozione a Crotoni al Palamilone dove è stata aperta la camera ardente delle vittime del naufragio. Omicidio femmina a Roma e il gastolo per Massimiliano Sestito. Bando Saccal per spazi duty free. Protesta dei lavoratori. A Pannacon in Vibonese arriva la statua del beato Francesco Mottola. Ben ritrovati con una nuova edizione dell'informazione di Calabria TV. Tanto dolore e commozione al Palamilone a Crotone dove è stata aperta la camera ardente che accoglie le bare delle vittime del naufragio di Steccato di Cutro. Il Consiglio Comunale di Crotone si riunisce per un documento unanime. Sì, per dare un segno di unitarietà, per sensibilizzare le istituzioni politiche anche se non ce n'è bisogno perché sono tutti assolutamente sensibilizzati. Anche i cittadini sono occorsi in massa per dare il proprio contributo. E infatti io ho soltanto sostegno morale. È un momento molto tragico, è un momento che deve suscitare riflessioni politiche importanti. Attenzionare alla problematica è molto importante e poi c'è la possibilità di decidere e poi c'è anche un confronto politico per le varie parti. Credo che la cittadinanza, il popolo italiano, i calabresi, i crotonesi vogliono dare assistenza a chi è in difficoltà, a chi arriva sperando in un mondo diverso, a chi arriva e poi non riesce a traccare perché le tragedie, questa non è nella prima e se così dovesse perdurare non sarà nemmeno l'ultima. Immagino attivare anche una macchina comunale per il sostegno ai minori, minori e minori non accompagnati, ma il comune ha questa disponibilità. Ma sì, ma lo facciamo da tempo, lo facciamo da tempo, però serve il sostegno nazionale perché non è che serve il sostegno al comune di crotone. Questo è un luogo comune che interessa tutte, tutte, tutte le città calabrese, quelle siciliane, quelle pugliesi. È una situazione, è un'emergenza europea, mondiale. Noi siamo soltanto un'occasione, uno dei pochi esempi dove ci si mobilita tutti per poter dare soccorso e esprimere un'idea umanitaria. Mi immagino che il governo queste riflessioni in questo momento le stia facendo. Sindaco Loro, un consiglio comunale straordinario per questa situazione. Crotone dovrà essere ancora pronta. Crotone intanto vuole esprimere il cordoglio alle vittime, ai familiari che stiamo vedendo in questi istanti venire a riconoscere i propri cari. Quando è successo ha colpito un po' tutta la comunità, non solo crotonese, ma io dico in tutta Italia e anche in Europa. Non eravamo abituati a vedere queste scene e queste immagini. Ha parlato di un miracolo vedendo una bambina in ospedale. Ma guardi, l'unica cosa bella che mi viene in mente in questi giorni qua, l'unica cosa bella, immaginare questa bambina tratta in salvo e vederla che sta bene, è straordinario. Come vedete stiamo lavorando ininterrottamente dall'alba di domenica, noi come ufficio di migrazione, la squadra mobile per le attività investigative, la polizia scientifica e tutta la divisione anticrimine per quanto riguarda l'identificazione e poi il riconoscimento delle vittime. È un lavoro incessante, pesante, con pressioni psicologiche non indifferenti perché fare le nostre attività ordinarie ma la presenza di tanti, tanti cadaveri, ne contiamo ora 65, dagli 8 mesi ai 70 anni, vi posso assicurare che non è assolutamente semplice, però il lavoro sta andando avanti. E sono confluiti al Palamilonia, a Crotone, alcuni esponenti della comunità pakistana di Arezzo. Veramente, veramente come un umano, adesso dico come un umano, veramente è una situazione che non ho parole proprio, ma io la verità è che famiglie pakistani quando hanno sentito che ci sono anche pakistani che sono partiti da Turchia qui a arrivare a questo nave, è successo tutta questa cosa. Guarda che le mamme veramente sono triste, le famiglie sono molto, molto triste. Non ho parole per le proprie famiglie, però voglio dire, questi governi, assolutamente dico una cosa, che il nostro governo pakistano condanna proprio penamente che questo non è una strada giusta per venire immigrati in Italia. Loro hanno fatto tantissime riunioni, anche l'ambasciata pakistana qui in Italia, a Roma, la ringrazio è l'ambasciatore che lui ha fatto tantissime riunioni con la comunità pakistana per la spiegazione che chi viene in Italia, va benissimo, viene però una strada seguita come riguarda le leggi, con i flussi come vengono tutti gli italiani, tutti i migrati qui in Italia regolari. Siete della comunità pakistana di Arezzo, siete giunti subito qui a Crotone per riconoscere. Arrivato qua per solo vedere che quante persone sono morte, quante vivere, come fare con le salme che qui è che è morto, portare a Pakistan. Noi siamo arrivati qua, noi siamo qua, non è che sono tutti parenti, però sono come una famiglia, noi siamo che vivere qua come parenti. Anche la deputata Laura Boldrini si è recata a Crotone al Palazzetto dello Sporto, per depositare un fascio di fiori in memoria delle vittime di steccato di cutro a nome delle deputate e dei deputati del PD. L'Italia deve relazionarsi con l'Unione Europea e fare una missione europea per il pattugliamento e il salvataggio in mare. Questa è l'unica cosa realistica che si può fare. Dire impediamo che partano è un'illusione ed è molto strumentale come modo di affrontare il tema, perché noi non possiamo sigillare l'Iraq, l'Afghanistan, la Siria, la Turchia, la Libia, l'Egitto, è evidente questo, no? Quindi è un modo di affrontare il tema assolutamente propagandistico. L'unica cosa di senso è cercare di avere mezzi sufficienti per fare una missione come fu all'epoca nel 2013, mare nostrum, ma farla a titolo europeo, cioè con tutti gli stati che mettono a disposizione mezzi adeguati per fare il monitoraggio e il salvataggio. Frontex è un'altra cosa, non ha questo mandato ed è sempre più urgente che invece l'Unione Europea si faccia carico di salvare le vite umane in mare. Si rende conto insomma che questi territori sono abbandonati? Io mi rendo benissimo conto, dico che questa è una regione che da anni fa i conti con i flussi migratori, quindi ha l'esperienza per poterli gestire, quello che manca sono le risorse, bisogna investire di più, ci deve essere un'attenzione maggiore verso la Calabria, perché appunto i numeri ci dicono che negli ultimi tempi i flussi sono aumentati e dunque è giusto che questa regione riceva più sostegno anche da parte delle autorità centrali. E per il naufragio dei migranti di steccato di Cutro non si placano le polemiche sulla macchina dei soccorsi. La procura di Crotone ha confermato che l'inchiesta avviata riguarda il naufragio e non i soccorsi, ma che comunque saranno raccolti tutti i dati per inquadrare la situazione. Sarebbe arrivata solo alle 4.30 del mattino la prima informazione di emergenza sull'imbarcazione che spezzandosi a largo della costa di staccato di Cutro ha provocato la morte di almeno 64 migranti. E questa è la versione ufficiale della Guardia Costiera, che rispondono a chi sostiene che si sarebbe potuto fare di più per abbordare il barcone. Aggiunge come la segnalazione dell'Agenzia Europea della Guardia Costiera Frontex parlasse di un'imbarcazione che risultava navigare regolarmente a sei nodi e in buone condizioni di galleggiabilità, con solo una persona visibile sulla coperta della nave. Frontex però, attraverso il suo portavoce, fa sapere di aver avvistato la notte di sabato un'imbarcazione pesantemente sovraffollata e di aver prontamente avvisato le autorità italiane. La Guardia di Finanza si sarebbe poi attivata ed è nel corso di quest'operazione che alle 4.30 della notte sarebbero giunte le prime segnalazioni telefoniche da terra che evidenziano le difficoltà del barcone spezzandosi per la forza delle onde. Poco dopo, continua la Guardia Costiera, i carabinieri precedentemente allertati alla Guardia di Finanza e aggiunti in zona hanno riportato l'avvenuto naufragio. La Guardia Costiera specifica quindi che nessuna segnalazione telefonica è mai pervenuta ad alcuna articolazione della Guardia Costiera dai migranti presenti a bordo della citata imbarcazione o da altri soggetti come avviene in simili situazioni. Appena saputo delle difficoltà sarebbe partito il dispositivo SAR, Search and Rescue, coordinato dalla Guardia Costiera di Reggio Calabria, con l'invito di mezzi navali aerei, uomini e mezzi terrestri nella zona indicata. Non viene citato quindi il presunto allontanamento di due motovedette italiane che sarebbero poi tornate a riva prima del naufragio. Andiamo avanti ancora con la cronaca, ma cambiamo argomento. Confermate le condanne all'ergastolo per Massimiliano Sestito e a 24 anni e 8 mesi per Francesco Pizzata, accusati dell'omicidio del boss Vincenzo Femia, avvenuto a Roma nel 2013. Ergastolo per Giuseppe Graviano e Rocco Santo Filippone. Sono colpevoli di tutti i reati loro ascritti e va confermata integralmente la sentenza di condanna di primo grado. Il sostituto procuratore generale di Reggio Calabria, Giuseppe Lombardo, ha chiesto la condanna del carcere a vita per il boss palermitano Giuseppe Graviano e il referente dell'Andrangheta Regina e uomo della potente dinastia criminale dei piromalli di Gioia Tauro, Rocco Santo Filippone, ritenuti mandanti degli agguati mortali e carabinieri, consumati nel Regino tra la fine del 1993 e i primi mesi del 1994. Omicidi, attentati e allarma che rientrerebbero nella strategia di espandere le stragi alla Calabria. Il processo Andrangheta stragista sta proseguendo in corte d'assiso ed appello a Reggio Calabria, presidente Bruno Muscolo all'Etere Giuseana Compagnia, con gli interventi dei difensori di parte civile e legali dei familiari degli attentati ai carabinieri. Presente in aula anche Ivana Fava, la figlia di una delle vittime degli agguati carabinieri, il maresciallo Antonino Fava. Le difese dei due imputati interverranno nelle udianze dell'1 e 2 marzo. Il giudice delle indagini preliminari di Catanzaro, a conclusione del giudizio abbreviato, ha condannato a vent'anni di reclusione Masish Selem, il cittadino pakistano di 30 anni che nel dicembre del 2021 ha ucciso con un vadile due uomini nel maneggio alla Valle dei Mulini a Catanzaro. L'uomo, senza un'apparente motivazione, ha aggredito Vincenzo Marino, colpendolo ripetutamente alla testa, per poi avventarsi su un altro frequentatore del maneggio, Giuseppe Sestito. Subito dopo, l'uomo in preda ad una furia omicida, ha colpito ad un braccio anche una signora che si apprestava a dare soccorso a Marino, per poi avventarsi nei confronti di altre persone presenti. Per fortuna l'uomo è stato bloccato prima che potesse colpire altre persone e subito dopo arrestato è portato in carcere. Vincenzo Marino e Giuseppe Sestito sono poi deceduti in ospedale, in seguito alle gravissime lesioni riportate alla testa e al volto. Ritorna in classe il professore, che era stato destituito dall'insegnamento dall'Istituto Majorana di Castro Libero per presunte moleste sessuali a delle studentesse. Il prof torna in classe e il dirigente scolastico regionale Loredana Giannicola ha disposto il reintegro nel posto di lavoro del docente in servizio nell'Istituto Scolastico Superiore Majorana di Castro Libero, in cui proprio a causa di presunte attenzioni mostrate dal professore nei confronti di giovane studentesse, era stata portata avanti la scorso anno una lunga occupazione. Tre studentesse avevano rilasciato dichiarazione alla magistratura inquirente determinando l'apertura di un'inchiesta da parte della procura di Cosenza, di cui non si conoscono ancora all'esita ad un anno di distanza. Il docente era stato destituito dall'insegnamento il 30 di agosto scorso con formale provvedimento dell'ufficio scolastico regionale. Contro il decreto ha promosso ricorso al giudice del lavoro di Cosenza che ne è disposto così il reintegro condannandolo oppure pure il Ministero dell'Istruzione al pagamento delle spese processuali. Da qui l'inevitabile disposizione del dirigente Giannicola costretto ad adeguarsi a provvedimento giudiziario. Un imbarazzo negli ambienti scolastici cosentini. Il prof quindi riprenderà servizio nel liceo Pitagora di Rende dove nel frattempo era stato trasferito. Il segretario generale della FISCAT CISL Calabria, Fortunato Lupapa, ha incontrato l'amministratore della SACAL Marco Franchini al termine della protesta dei lavoratori dell'attuale duty free dell'aeroporto di Lamezia Terme in merito alle nuove concessioni commerciali. Il bando con scadenza 2 marzo 2023 prevede che le attività presenti nell'area debbano avere un fatturato di un milione e mezzo di euro e anche la presenza in un altro scalo internazionale. Ciò praticamente comporta in termini economici la chiusura delle attività e il licenziamento dei lavoratori, in quanto una cifra così importante difficilmente le aziende calabresi riuscirebbero a coprire e di conseguenza verrebbero escluse. Siamo riusciti, afferma Lupapa, a raggiungere un primo obiettivo. Innanzitutto entro la prossima settimana sarà presentato un bando per ampliare il numero delle attività commerciali nell'area esterna, poi verranno inserite anche delle clausole di salvaguardia sociale. Non ci fermeremo qui, dice il segretario, parteciperemo ad altri incontri con Sacal e Confindustria al fine di monitorare quanto verrà fatto e allo stesso tempo intessere relazioni. E concludiamo con l'ultima notizia. La comunità di Pannaconi nel Vibonese ha vissuto momenti di fede e di grazia con l'accoglienza della statua del beato Don Francesco Mottola. La comunità di Pannaconi ha vissuto un momento di fede e di grazia con l'accoglienza della statua del beato Don Francesco Mottola. È stato emozionante e non sono mancate le lacrime. Così il parroco di Pannaconi, Don Felice Palamara, ha commentato l'evento ad accogliere la statua non solo alla comunità di Pannaconi ma anche tanti fedeli di altre zone della provincia, Cessaniti, Pianapigliese, San Cono, Favello, Nipotenzo, Nitropea. A presiedere la celebrazione eucharistica, il Vescovo della diocesi, Monsignor Attilio Nostro, che ha sottolineato l'importanza di essere in comunione non solo con Dio ma con i fratelli e di essere luce nella vita e non buio, seguendo l'esempio di Don Francesco Mottola. Tanti sacerdoti presenti a questo evento creando così una corona attorno alla statua del beato. Durante la celebrazione il Vescovo e il parroco hanno ringraziato l'artista che ha realizzato l'opera, il giovane Pietro Colloca di Favelloni, presente con la famiglia. Il Vescovo ha sottolineato il fatto che l'arte è testimonianza della bellezza di Dio. Presenti anche la confraternita, la casa di carità alla piccola Betlem, le sorelle oblate, figlie spirituali del Beato, l'associazione Crisali del sindaco di Cessaniti, Francesco Mazzeo, con l'assessore Nicola Pugliese. La statua del Beato si trova esposta nella chiesa di San Nicola in Pannaconi per la venerazione dei fedeli. Termina qui il nostro telegiornale. Ora vi lascio con le notizie dall'Italia e dal mondo. Grazie per averci seguito. Nel suo primo intervento alla Camera da segretaria del PD, Ellie Schlein chiede le dimissioni del ministro Matteo Piantedosi intervenendo durante l'audizione del ministro dell'Interno in Commissione Affari Costituzionali sulla tragedia di Cutro. Utilizzeremo ogni atto ispettivo sulle responsabilità del ministro Piantedosi ma anche dei ministri Giorgetti e Salvini le parole di Schlein. Intanto, con il ritrovamento del corpo di una bambina avvenuto in mattinata, sale a 67 il numero delle vittime del tragico naufragio di migranti davanti alla costa crotonese. E mentre al palazzetto dello sport di Crotone è stata aperta la Camera Artente per rendere omaggio alle vittime, sulla polemica in merito ai soccorsi, il comandante della Capitaneria di Porto di Crotone, Vittorio Aloi, dice che sarebbe stato possibile intervenire anche con quelle condizioni meteomarine. Almeno 40 persone hanno perso la vita, 130 sono rimaste ferite e tra le 50 e le 60 sono attualmente disperse a causa del terribile incidente ferroviario avvenuto stanotte in Grecia, nei pressi della città di Larissa. L'impatto è avvenuto tra un treno passeggeri e un convoglio merci che viaggiavano ad alta velocità non sapendo dell'arrivo dell'altro. In seguito al violentissimo scontro due carrozze hanno preso fuoco e un numero imprecisato di viaggiatori sono rimasti intrappolati. L'impatto è stato così grave che delle prime due carrozze non è rimasto nulla. Sul treno passeggeri si trovavano molti studenti di ritorno a casa. Il capostazione di Larissa è stato arrestato con l'accusa di omicidio colposo e lesioni personali per negligenza e si è dimesso il ministro dei trasporti Costas Caramanlis. Non ce l'ha fatta Michela Boldrini, la 39enne turista di Starnico in provincia di Bergamo che da una settimana era ricoverata all'ospedale Aga Khan di Mombasa in Kenya a causa delle ustioni riportate nell'incendio del resort Barracuda Inn di Watamu avvenuto martedì scorso. La donna, che era insieme con il cugino Mattia Ghilardi, originario della Valtellina, era al termine della sua vacanza e sarebbe dovuta partire il giorno dopo. 24 ore ad alta tensione dopo che la guerra dei droni è sconfinata in Russia, colpita ieri da una serie di attacchi a infrastrutture energetiche. Kiev nega di aver lanciato raid, affermazione che il Cremlino ritiene falsa. Mosca ha riferito di aver bloccato un massiccio attacco con veivoli senza pilota. Intanto il presidente bielorusso Lukashenko, in visita a Pechino, dichiara di appoggiare il pieno di pace cinese e chiede un cessate il fuoco immediato in un appello congiunto con Xi Jinping, mentre sul territorio ucraino i combattimenti infuriano, soprattutto intorno a Bakhmut, e un consigliere di Zelensky, intervistato dalla CNN, ammette che la ritirata è un'opzione. È stato rinviato a venerdì il dibattito e il voto previsto per oggi a Bruxelles sullo stop alla vendita dei motori endotermici dal 2035. La decisione della presidente svedese del semestre dell'Unione Europea, poiché il sì al regolamento dell'Unione in materia, è tornato in bilico. Oltre all'Italia che ha annunciato voto contrario, la Germania esprime riserve e mette sul tavolo il tema degli FLUL. Con il no di Polonia e Bulgaria, il regolamento rischiava di incontrare una minoranza di blocco. La ratifica finale del regolamento era prevista per il Consiglio Europeo del 7 marzo. Margherita Cassano, presidente aggiunto in Cassazione, è stata nominata all'unanimità dal plenum del Consiglio Superiore della magistratura, primo presidente della Suprema Corte. È la prima donna nella storia della Repubblica a ricoprire questo incarico così importante. Margherita Cassano raccoglie il testimone da Pietro Curzio, il presidente della Repubblica, Mattarella, che ha aperto i lavori del plenum del CSM, ha sottolineato l'eccellente profilo professionale della neopresidente e si è detto certo che il suo contributo sarà prezioso. Grazie a tutti i nostri spardo. Grazie a tutti i nostri spiegati alla Corte. Grazie a tutti i nostri sp cowriti